Un grande momento di orgoglio per il sindaco Luigi Vertucci, che ha ridato vita al campo da calcio chiuso dal 2019 per carenze strutturali. Grazie al finanziamento del CONI con il Bando Sport e Periferie e ad un ulteriore finanziamento diretto dal Comune, lo stesso è stato dedicato a Paolo Bognanni, un grande campione che si è distinto non solo per le sue qualità calcistiche, ma anche per il suo modo di essere, una persona apprezzata per la sua generosità e umiltà. Originario di Atena Lucana, è scomparso nel 2019. Il calciatore si è messo in evidenza nei campionati professionistici di terza serie, disputando diversi campionati di serie C. Fu uomo di punta del Valdiano che ottenne la promozione in serie C2 nella stagione 1985-86. Tra i presenti alla cerimonia hanno preso la parola il sindaco Luigi Vertucci, il presidente FIGC Carmine Zigarelli, Giovanni Guzzo, vicepresidente provincia di Salerno, Don Michele Casale, parroco di Atena Lucana, e la moglie del calciatore Rocchina Adobbato, che ha ringraziato tutta la comunità di Atena Lucana, dichiarandosi orgogliosa ed emozionata per questo riconoscimento. Il moderatore dell'evento, lo scrittore e giornalista, Geppino D'Amico. È stato un bel momento, una bella giornata, una giornata di sport, di aggregazione, di socialità, un bel momento per il comune di Atena, ma per l'intero territorio, che in questa riapertura vede appunto concretizzarsi un sogno, un'azione amministrativa, in un momento, in un giorno di ricordo e di memoria verso Paolo Bognanni. È bello ricordare il passato attraverso un campione del calcio e i giovani dovrebbero prenderlo all'esempio per una persona che ha fatto tanto per il calcio, fin quando poi non ha concluso la sua carriera nel Valdiano qui vicino, ma oggi anche è un giorno di festa per tutta la comunità di Atena, perché comunque l'amministrazione ha donato questo piccolo geellino che diventa patrimonio del calcio campano. Riapriamo gli impianti sportivi, quindi luogo non solo di sport, ma anche di socialità, di festa, sia per i giovani, per i ragazzi e anche per le famiglie. E soprattutto oggi diamo il giusto riconoscimento alla memoria di una grande persona di Atena, Paolo Bognanni, calciatore professionista, quindi che è scomparso qualche anno fa e abbiamo voluto intitolare lo stadio comunale proprio a lui. Paolo Bognanni è stato un esempio per tutti noi, dopo Beppe Bruscolotti nel Vallo di Diano viene Paolo Bognanni, è stata la persona che ha calpestato i campi di calcio a livello professionistico, quindi è un orgoglio oggi per me sindaco riaprire gli impianti e dare il giusto valore, ripeto, alla vita di una persona che ha speso tutta la sua vita per il calcio e per lo sport. Abbiamo rifatto il campo da tennis, da pallavolo, da calcetto, c'è un playground per il basket, due campi di bocce e tutto alimentato da pannelli solari, quindi energeticamente autonomo. È un orgoglio, ripeto, comunità, al di là dell'aspetto amministrativo, oggi ho voluto la presenza anche di tutti gli ex sindaci di Atena, proprio per far capire il valore che non è soltanto politico-amministrativo di questa amministrazione, ma è quello di dare a un'intera comunità un luogo, uno spazio dove poter dare sfogo a tutte le loro passioni, quindi chissà un giorno vedere qualche piccolo Paolo Bognanni calpestare questo campo da calcio. È stata una giornata importante della quale ringrazio il sindaco Vertucci, sin dal primo momento quando mi contattò per dirmi di questa importante intitolazione ho vissuto questa sua decisione con grande partecipazione e con grande emozione. Insieme abbiamo cercato di ricostruire la memoria storica di Paolo per costruire un archivio digitale che sarà poi disponibile nei prossimi giorni. Buongiorno per le nuove generazioni che sentiranno parlare di questo grande calciatore che attraverso la lettura dei suoi articoli potranno sapere chi conoscere più in dettaglio la figura di Paolo, le sue vittorie calcistiche e tutti i suoi successi in campo, ma anche fuori dal campo perché Paolo era una persona molto amata da tutti, quindi sia dai tifosi che da coloro che non seguivano il calcio. Era amico di tutti, una persona piena di generosità, di altruismo e ha lasciato un ricordo indelebile in tutti quanti. La presenza oggi qui per questa importante intitolazione fa capire quanto fosse amato. Grazie.